Dopo aver confermato e chiarito la fede dei suoi discepoli, ricordate, tu sei il Cristo di Dio, aveva detto Pietro il brano di domenica scorsa, nel passaggio evangelico di questa settimana leggiamo di come Gesù si avvia con grande determinazione al compimento della sua missione. Da adesso in poi Gesù non vuole proprio sentire ragioni, tralascia ogni pensiero contrario, non si cura di nessuna opposizione, di nessuna critica, chi ci sta a seguirlo lo segua. Il suo obiettivo è Gerusalemme, la città santa, il luogo per eccellenza dell'incontro di Dio con il suo popolo, la città del tempio dove viene offerto l'agnello sacrificale per il perdono dei peccati del popolo, ma lo sappiamo è lui, il Cristo, il vero agnello di Dio che prende su di sé i peccati del mondo. È la traduzione pratica di quanto Gesù aveva detto ancora nel brano di domenica, il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Deve, deve. Gesù sente la sua Pasqua come un dovere. In italiano questo verbo può essere inteso in vari modi. Attenzione quindi perché Gesù non intende questo dovere come una specie di destino inevitabile, doveva andare così, era destino. È piuttosto una missione che Gesù sente di dover compiere. C'è la tentazione sottile dei due figli di Zebedee o Giacomo e Giovanni di lanciare fulmini e saette contro quelli che rifiutano il Vangelo. Ma Gesù li sgrida perché il giudizio appartiene solo a Dio. Solo il Signore conosce che cosa c'è veramente nel cuore di ogni uomo. E anche quando la Chiesa deve parlare con franchezza e denunciare il male e la falsità, lo deve fare sempre in vista di un bene più grande. C'è la tentazione di chi pensa che seguire Cristo sia costruirsi un nido di sicurezze materiali ma anche spirituali. Invece il discepolo in questo mondo, proprio come il nostro Maestro, è sempre un pellegrino precario. Non è che perché sei cristiano hai una garanzia contro gli infortuni della vita. C'è anche la tentazione molto diffusa di non amare sul serio, mettendo completamente in gioco se stessi. La tentazione di quei giovani, per esempio, che danno un anno della loro vita, ben dodici mesi della loro vita, per inanellare esperienze meravigliose e poi magari ritornare borghesemente alle proprie sicurezze, magari con la coscienza più leggera. O di chi pensa che si possa amare per prova, giusto per vedere se funziona. Di fronte a tutto questo c'è il deve, il figlio dell'uomo deve. Gesù non è costretto da nessuno fuori di lui. La sua determinazione assoluta è frutto solo della sua libera volontà di fare ciò che egli stesso è. Dio è amore, amore che si dona. Quella del dono di sé diventa dunque la legge fondamentale del regno di Dio. Nessuno che mette mano all'aratro e poi si guarda indietro è adatto per il regno dei cieli. Grazie. Grazie.